Allora, il suo giudizio su questo libro? Beh, è un libro che si legge con grande attenzione e con grande interesse, perché è un libro breve ed efficace nei temi che tratta e il tema che tratta direi che è particolarmente importante, perché riguarda soprattutto l'equilibrio fra le diverse esigenze che vengono in qualche modo enunciate dall'utilizzo dei dati. I dati possono essere utilizzati per difendere varie tipologie di diritti e il libro cerca di definire i criteri attraverso i quali si può trovare un equilibrio fra i diversi diritti che devono essere tutelati attraverso l'utilizzo dei dati.